buonasera amici cari niente io mi presento sono un grande ammiratore del signor marco zollo e infatti io ho ritenuto proprio che questo sistema veramente infallibile quindi sinceramente lo consiglio a tutti perché veramente diciamo è spacca proprio spacca e come si è veramente diciamo io vi consiglio un po a tutti voi di seguire il signor marco zollo che è veramente in gamba e poi inoltre vi consiglio di acquistare questo metodo che si costa diciamo un bel po però questo tutto ciò che lui spendete lo recupererete capito in questo metodo perché veramente un sistema eccezionale che fa tutti quanti vincere e quindi diciamo è facile anche da utilizzare ed è molto semplice capito vi ripeto acquistate questo il metodo di del signor marco zollo che è un sistema infallibile ed è un detto anche sistema in spacca venus è veramente avete molte soddisfazioni ok vi saluto e buona serata e se auguro il meglio al signor marco zollo grazie marco ti ringrazio buona serata